Ancora uno stop per il Roccella che perde in casa l'inetto muscolo per 1 a 2. La squadra ospite del Gragnano già alla sesto minuto si è trovato in vantaggio grazie ad un preciso colpo di testa su un millimetrico traversone di Santinello. Il gol subito a freddo da parte del Gragnano e l'espulsione di La Piana ha spinto la formazione di casa nonostante l'inferiorità numerica ad alzare decisamente il ritmo. In questa fase a rimettere in equilibrio il risultato c'è pensato l'attaccante del Roccella Franco che ha trafitto dal limite dell'area di rigore il portiere del Gragnano Ferrara con una bolide al fil di palo. All'inizio della ripresa il Gragnano è tornato in vantaggio al sesto minuto con Martone che dalla breve distanza trafigge Mittica con un tiro dal basso verso l'alto. Nell'ultima mezz'ora di gara i padroni di casa pur gettando il cuore oltre l'ostacolo e riversandosi alla metà campo dei compagni non sono riusciti, traversa colpita dalla Brizzi e conclusioni di Franco, Sendin, Minici e la Ibridi poco fuori a ristabilire la partita. Grazie. 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 Grazie.